Nel paniere dei souvenir del gusto, i più gettonati tra i turisti sono vino e olio extravergine di oliva. È quanto ha riscontrato Coldiretti Ancona rispetto all'andamento delle vendite nei mercati estivi di Campagna Amica. Nonostante la minore affluenza di stranieri e il minor potere di acquisto delle famiglie, il settore degli agricoltori che fanno vendita diretta dei loro prodotti ha retto. Il cibo nell'estate 2021, come sottolinea la Coldiretti, rappresenta circa un terzo della spesa delle vacanze tra pasti fuori, ma anche per l'acquisto di alimenti o di souvenir o specialità enogastronomiche. Con la riapertura totale della ristorazione dopo il lungo periodo di lockdown, si è assistito ad un ritorno in grande stile dei consumi alimentari fuori casa, bene per i prodotti che fanno della marchigianità il loro cavallo di battaglia. Quelli che riportano in etichetta il Made in Marche sono apprezzati soprattutto da Umbri, Toscani e Laziali, che preferiscono DOP e IGP con riferimenti alla lavorazione tradizionale, alla filiera e al biologico, secondo il report dell'osservatorio Immagino GS1. Infine, le vendite dei prodotti marchigiani sono aumentate dell'8,4% tra 2019 e 2020.